Sono veramente orgoglioso di ricevere questo riconoscimento, è un riconoscimento a tutto il team di lavoro che costantemente ha lavorato a questo progetto capolavoro ghiacciato di Vecchio Amaro del Capo, un progetto che ha visto un team coeso che per lunghi mesi ha progettato, studiato fino alla sua realizzazione di un progetto che non poteva non essere eccellente. Oggi riceviamo questo premio per la colonna sonora, Naip è stata la scelta di Publi One di coinvolgerlo e di prendere ogni sua ispirazione artistica e insieme a un grande artista abbiamo fatto con tutto il team questo grande capolavoro ghiacciato perché è il claim del nostro spot radiofonico e televisivo. Voglio anche ricordare che è un premio anche alla terra della Romagna che in questo momento abbiamo un gran bisogno di energia, tanta energia i romagnoli l'hanno dato mettendosi nelle strade aiutando le persone più in difficoltà. Purtroppo ci sono ancora 700 strade non praticabili, 20.000 persone che stanno dormendo fuori casa, è stata veramente ferita. Le spiagge sono tutte a posto per accogliere i turisti ma nell'entroterra di Forlì, di Cesena, di Faenza e di Ravenna ha delle zone purtroppo non praticabili. I contributi che stanno arrivando dalle istituzioni non penso che siano sufficienti e non con le tempistiche giuste, quindi ci sono tante associazioni che si stanno dando da fare. Se potete date una mano anche voi con un piccolo gesto per aiutare queste persone che purtroppo oggi non hanno più la loro casa, la loro macchina e alcune anche il posto di lavoro. Grazie a tutti.